Musica Utilizzare le royalty del petrolio per la messa in sicurezza sismica in Valdagri, il piano per un totale di 175 milioni di euro, è stato redatto dall'Università degli Studi della Basilicata ed illustrato a Grumento Nova. Crack Verito Banca si apre uno spiraglio per i tanti risparmiatori lucani che hanno perso tutto con l'acquisto di azioni illiquide. Condannato dal Tribunale Civile di Matera per non aver riconosciuto il figlio, il comandante della polizia locale di Tursi, Giovanni Sanchirico, dopo il grande clamore suscitato dalla vicenda, si difende e fornisce la sua versione dei fatti. Al Liceo delle Scienze Umane Emanuele Gianturco di Potenza, una serata per illustrare a studenti, genitori e autorità cittadine il processo di internazionalizzazione avviato da qualche anno. Da tempo l'apertura dei negozi la domenica e durante i giorni di festa è al centro di un aspro dibattito politico. Confeser Centipotenza chiede la limitazione delle aperture delle attività commerciali. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv. Lo avete sentito dai titoli, utilizzare le royalties del petrolio per la messa in sicurezza sismica in Val d'Agri. Il piano per un totale di 175 milioni di euro è stato redatto dall'Università degli Studi della Basilicata ed illustrato a Grumento Nova. Ce ne parla Daniele Corbo. 175 milioni di euro in dieci anni per mettere al riparo dai terremoti gli edifici pubblici e privati dei paesi petrolizzati della concessione idrocarburi Val d'Agri, fra le zone a più alto rischio d'Italia. Grumento, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro e Vigiano, ad eccezione di Calvello. Anche in virtù delle possibili interazioni fra estrazioni e sismicità locale, con quali risorse? Le royalties petrolifere dirette, quelle che i comuni ricevono come compensazione per la presenza dei pozzi sui propri territori. Ma non solo. Il piano arriva dall'Unibas ed è stato illustrato dal professor Angelo Masi nell'ambito della tre giorni di eventi in ricordo dei 160 anni dal devastante terremoto del 1857. Si basa sulle analisi di vulnerabilità condotte in passato in relazione agli edifici di 18 paesi della provincia di Potenza, 17.500 quelli censiti, in un'area con 41.500 abitanti. I conti però si riferiscono al rafforzamento degli immobili esclusivamente nei comuni del petrolio, applicando le tecniche classiche del settore, interventi di miglioramento sismico, quindi non di adeguamento pieno, che però porterebbero i fabbricati valdagrini a un livello di sicurezza non inferiore al 60% di quello proprio delle strutture di nuova costruzione. I costi sarebbero più contenuti, spiega Masi, e si garantirebbe così un intervento diffuso in meno tempo. Incluso l'efficientamento energetico, a Vigiano servirebbero 50 milioni, a Montemurro e Marsico Vetere 35, a Grumento 30, a Marsico Nuovo 25. Per Vigiano e Evidenzia Masi sarebbero 5 milioni all'anno rispetto ai 16 di royalties petrolifere incassati nel 2015. Cifre importanti ma non proibitive, spiega, soprattutto se si guarda anche ad altri canali di finanziamento, come i fondi europei per la coesione e il sisma bonus che lo Stato rende disponibile ai privati per irrobustire le case. Rapporto costi-benefici? In caso di scossa di magnitudo 7, allo Stato attuale la perdita economica sarebbe di 172 milioni di euro, con oltre 2.000 senza tetto. Dopo la messa in sicurezza, invece, scenderebbe fra gli 80 e i 100 milioni, con circa 500 sfollati. Senza dimenticare l'aspetto più importante, quello delle vite salvate. Ed ora parliamo del crack Veneto Banca, si apre uno spiraglio per i risparmiatori lucani, ci dice perché Mara Risola. Si apre uno spiraglio per tutti gli azionisti, tra i quali anche centinaia di lucani, vittime del crack finanziario di Veneto Banca e del calo del 40% del prezzo delle azioni di Banca Popolare di Bari. Risarcimenti, uno integrale e uno parziale, a beneficio rispettivamente di due cittadini risparmiatori, uno titolare di azioni Veneto Banca, a cui l'arbitrato ACF ha concesso il risarcimento totale di 130 mila euro, e l'altra di Banca Popolare di Bari. Una nota positiva arriva anche dall'approvazione della norma che istituisce il nuovo fondo di ristoro finanziario destinato a risarcire i risparmiatori rimasti vittimi di danno ingiusto per il crack delle banche. Sono dei risultati che ci fanno ben sperare, ha evidenziato Salvatore Laguardia, legale dell'Associazione Consumatoria di Consum Basilicata. Queste decisioni della CF e l'istituzione del Fondo Nazionale aprono una prospettiva anche per gli azionisti lucani, tanto per le vittime del crack delle banche venete, quanto per i correntisti di Popolare di Bari. Sono circa 200 i risparmiatori lucani Veneto Banca che si sono rivolti ad Adconsum Basilicata, mentre per gli azionisti di Popolare di Bari, invece, l'associazione ad oggi è impegnata nella raccolta delle richieste e dei documenti necessari per riavviare le azioni. Intanto dal fronte istituzionale e locale non si registra nessun segnale di concreto sostegno alle vittime, come invece è avvenuto da parte del Consiglio regionale Veneto, che ha istituito un fondo. Dopo la prima apertura da parte del Presidente del Consiglio regionale a concluso la Guardia, non abbiamo registrato passi in avanti. L'auspicio è che le istituzioni possano quantomeno farsi promoterici di azioni e tavoli di confronto con le banche. Braccia incrociate oggi per i lavoratori del settore edile. Lo sciopero nazionale è stato proclamato dai sindacati di categoria Filca, Filea e Fenea all'asseguito del mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno e mezzo. Per l'occasione i sindacati hanno organizzato sei manifestazioni interregionali a Torino, Padova, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. A Napoli è giunta anche una nutrita rappresentanza di lavoratori lucani che hanno raggiunto il capologo campano a bordo di cinque pullman. Un livello di partecipazione superiore all'obiettivo prefissato a testimonianza del fatto che si tratta di uno sciopero molto sentito dai lavoratori. Fanno sapere le segreterie regionali di Filca, Filea e Fenea in Basilicata. Nell'ultimo anno sono stati persi circa mille posti di lavoro. E voltiamo pagina condannato dal Tribunale Civile di Matera per non aver riconosciuto il figlio. Il comandante della polizia locale di Tursi, Giovanni Sanchirico, dopo il grande clamore suscitato dalla vicenda, si difende e fornisce la sua versione dei fatti. Dopo il grande clamore mediatico sollevato dalla sentenza del Tribunale Civile di Matera che ha condannato un padre denunciato dal figlio per non averlo riconosciuto al pagamento di 20.000 euro come risarcimento per il danno esistenziale conseguente alla privazione della figura paterna, il diretto interessato, il comandante della polizia locale in servizio presso il comando di Tursi, Giovanni Sanchirico, interviene con una nota per chiarire e difendere la sua persona e l'integrità morale dell'istituzione che rappresenta. La storia privata, manipolata d'arte e portata alla ribalta da mio figlio Vincenzo Trani, scrive in una nota inviata alla stampa Giovanni Sanchirico, ha dipinto un quadro non veritiero della realtà, innanzitutto perché tutti sanno la verità dei fatti e il motivo per cui ad oggi, dopo 45 anni, ha deciso di intentare questa causa che in primo grado, a fronte di una richiesta di 150.000 euro, gli ha riconosciuto un danno di soli 20.000. I problemi sarebbero iniziati a seguito di una tragedia familiare, il figlio Vincenzo avrebbe iniziato a mutare il suo atteggiamento nei confronti del padre. Si è affiondato sulla situazione come un avvoltoio senza il minimo rispetto della tragedia che ho vissuto, ci racconta. Da lì quello che fino ad allora non aveva importanza, ossia il riconoscimento formale e l'attribuzione del mio cognome, è divenuto di fondamentale importanza. Forse perché voleva entrare nell'asse ereditario e beneficiare dunque della parte di assicurazione che per legge spetta in questi casi. Il comune di Monte Scaglioso ha dichiarato il dissesto finanziario, ha accertato un debito di oltre 8 milioni di euro. La decisione fa sapere il sindaco Vincenzo Zito, è stata presa maggioranza. La gestione dei conti sarà affidata ora a tre commissari e le imposte locali, già al massimo, non subiranno ulteriori aumenti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Nuova Impianti a Potenza Progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nuova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza Per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu Mail info chiocciola noveimpiantipotenza.eu Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 24 80 500 Potenza 0971 19 40 572 info chiocciola global service sociale punto it Dopo Matera e Potenza un nuovo Capodanno Rai Basilicata. Il 31 dicembre aspetta con noi la mezzanotte dall'incantevole Perla del Terreno in diretta su Rai 1 da Piazza Europa a Maratea. La regione Basilicata, il comune di Maratea e Rai 1 ti invitano all'anno che verrà. Saluta anche tu il 2018 unendoti al più grande abbraccio televisivo d'Italia diffuso nei cinque continenti. A Maratea e su Rai 1 in HD sarà di scena un cast d'eccezione, grande musica e divertimento per rendere indimenticabile la notte più magica dell'anno. Ti aspettiamo da Maratea per l'anno che verrà. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla politica. Matteo Renzi ha avviato secondo quanto trapelato nelle ultime ore il lavoro per definire le candidature in vista delle prossime elezioni, la strategia elettorale e di mettere i candidati più forti alla guida dei collegi. In tale contesto Renzi avrebbe previsto di schierare il ministro e beni culturali Dario Franceschini a Ferrara per l'uninominale e in Basilicata nel proporzionale. Anche se le prime notizie non lo precisano è fortemente probabile il collegio Basilicata 2 che comprende Matera e tutto il materano per sfruttare la popolarità del ministro acquisita con l'operazione Matera 2019. Franceschini è considerato di casa nella città dei Sassi e la sua candidatura punterebbe a drenare voti persino dal centrodestra e da amministratori ed esponenti politici materani che lo stimano e puntano su di lui per il successo dei programmi del 2019. Da tempo l'apertura dei negozi la domenica e durante i giorni di festa è al centro di un aspro dibattito politico. Confeser Centipotenza chiede la limitazione delle aperture delle attività commerciali. Sentiamo. In tempi di crisi economica le festività, soprattutto quelle natalizie, segnano il culmine dell'attività economica, il periodo in cui le attività commerciali tentano il tutto per tutto e in cui la gente è più propensa a spendere. Da tempo però l'apertura dei negozi la domenica e durante i giorni di festa è al centro di un aspro dibattito politico, economico e sociale e a pochi giorni da Natale politici, ministri, associazioni dei consumatori, lavoratori e sindacati hanno detto la loro è in campo e è sceso addirittura Papa Francesco che si è detto contrario al lavoro domenicale e festivo, tanto più il giorno di Natale. Per Confeser Centipotenza non è vero che i consumatori vogliono lo shopping 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e persino i giorni di Natale e Santo Stefano. Il 62%, la maggioranza assoluta, si dice infatti favorevole a introdurre una limitazione delle aperture festive e delle attività commerciali. Per Confeser Centipotenza si preannuncia meno dinamica la spesa per i doni di Natale. Quest'anno ogni italiano spenderà per i regali 307 euro, 2 euro o lo 0,7% in più dello scorso Natale. Ma è una media che nasconde forti differenze territoriali nelle regioni del Sud, infatti la media per persona è di 298 euro, inferiore del 7,4% ai 320 euro delle regioni del Nord. E siamo alla cronaca, due uomini di 31 e 44 anni, uno di Laurenzana e l'altro di Corletto Perticara, sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato per aver rubato un crocifisso nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Potenza. I due, che hanno entrambi i precedenti di polizia, si erano recati in chiesa chiedendo la carità al parroco. Non contenti della cifra ricevuta, una ventina di euro, hanno asportato il crocifisso dall'altare credendo fosse di oro. Una volta scoperto che la sacra icona era di metallo, si sono disfatti del crocifisso buttandolo in un prato. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita grazie alle immagini registrate da alcune telecamere di video sorveglianza. Al Liceo delle Scienze Umane Emanuele Gianturco di Potenza, una serata per illustrare a studenti, genitori e autorità cittadine il processo di internazionalizzazione avviato da qualche anno. Sentiamo. Oggi il Liceo delle Scienze Umane del Capoluogo si posiziona ai primi posti della graduatoria delle scuole italiane che hanno potenziato la propria offerta formativa internazionale con lo studio delle lingue straniere. Il risultato positivo di questa impostazione didattica si rileva dall'accrescimento della preparazione degli studenti e dall'ottimo grado di formazione linguistica e culturale degli stessi docenti. Negli ultimi anni sono stati realizzati 29 progetti europei e sono stati coinvolti 71 docenti e 180 studenti. Durante la serata internazionale, dopo i saluti del dirigente scolastico della Gianturco Antonio Laguardia e l'intervento introduttivo di Deborah Infante, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, sulle scuole di Basilicata in Europa, si sono susseguiti gli interventi dei professori Giuseppina Pino, Vincenzo De Carlo, Francesco Scaringi, Annalisa Vicario, Caterina Serra, Angela Girolamo, Chiara Colonese e Donato Gerardo. Nel corso della stessa serata sono stati premiati i liceali vincitori del concorso di fotografia intitolato ad Arianna Sabia, studentessa dello stesso Gianturco tradita dal destino all'età di 14 anni e tutti gli studenti che hanno frequentato i corsi del Cambridge English. A Tiziana Lacava della Quinta M è andato il primo posto, sul secondo gradino del podio Andra Morario della Quarta A e Alessia Coviello della Quinta H, terzo posto per Antonietta Zarriello, Ivana Pacello e Noemi Lopardo, menzioni speciali per Maria Grazia Rosa, Marta Sileo e Martina D'Atena. Ad aglietare l'evento, gli intermezzi musicali curati dagli studenti del Laboratorio di Musica e Canto dello stesso Liceo delle Scienze Umane di Potenza. In occasione della giornata internazionale del migrante che si celebra oggi, la Flai CGL di Basilicata e la CGL Basilicata inaugureranno alle 18 lo sportello Immigrazione e l'ufficio vertenza della Camera del Lavoro di Villa d'Agri. L'iniziativa si inserisce negli appuntamenti promossi dalla Flai CGL nazionale in quattro regioni, Veneto, Puglia, Emilia, Romagna e Basilicata. L'inaugurazione, spiegano le organizzazioni sindacali, è il cuore di un progetto di inclusione e integrazione rivolto ai lavoratori migranti dell'area della Val d'Agri, avviato un anno fa. Ed ora per lo sport andiamo a vedere i risultati e classifiche dei principali campionati in cui militano le Lucane di calcio. Questi i risultati della diciannovesima giornata del girone C di Serie C. In classifica Lecce in testa con 41 punti, a seguire Catania 38, Trapani 35, Siracusa 31, Virtus Francavilla 28, Matera 27, Juve Stabia, Catanzaro e Rende 25, Monopoli e Cosenza 23 insieme al Biceglie, Racing Fondi 21, Sicula Leonzio 19, Regina 18, Paganese 16, Casertana e Fidelisandria 15, Chiudelacragas a 9. Questi i risultati della diciassettesima giornata del girone H di Serie D. Cerignola Picerno 0-0, Aversa Normanna Gravina 1-2, Pomigliano Sansevero 1-2, Frattese Cavese 0-3, Manfredonia Gragnano 1-1, Sarnese Francavilla 3-2, Potenza Sporting Fulgor Molfetta 1-0, Altamura Nardò 0-2, Turristaranto 1-2. La classifica. Potenza in testa con 42 punti, a seguire Altamura e Cavese 40, Audace Cerignola 39, Gravina e Taranto 29, Azzeta Picerno e Nardò 26, Sarnese 21, Pomigliano 20, Gragnano 19, Sansevero e Francavilla 14, Turris, Frattese e Manfredonia 13, Aversa Normanna 10, Chiudelacragas a 9. Questi risultati della diciassettesima giornata di eccellenza. Altobradano Lavello 0-3, Grumentum Fides Scalera 1-0, Latronico Rotonda 1-3, Melfi Real Tolve 2-0, Real Metapontino Murese 1-2, Real Senise Soccer Lago Negro 1-0, Vitalba Sporting Pignola 2-2, Vultur Moliterno 2-0. Riposa il Montescaglioso. In classifica Soccer Lago Negro in vetta con 39 punti, a seguire Rotonda 38, Grumentum 36, Melfi 32, Montescaglioso 28, Fides Scalera e Lavello 27, Real Senise 25, Sporting Pignola 24, Real Metapontino 19, Vitalba 18, Vultur 16, Murese 15, Moliterno 12, Altobradano 9, Chiudono Real Tolve e Latronico a 6. Questi i risultati della tredicesima giornata della promozione. Anzi Bella 1-0, Candida Melfi Miglionico 1-0, Paternico Mavigliano 2-0, Pomarico Fortuna 1-1, Rotunda Maris Brienza 2-0, Ruoti Oraziana Venosa 1-4, Santa Arcangiolese Ferrandina 2-0. La classifica. Candida Melfi in vetta con 27 punti, a seguire Ferrandina, Santa Arcangiolese e Rotunda Maris 26, Brienza e Anzi 25, Pomarico 24, Oraziana Venosa 17, Miglionico 14, Paternicum 11, Avigliano 10, Bella 9, Fortuna Potenza 8, Ruoti chiude con 3 punti. In chiusura due notizie di servizio a Ripacandi da causa di un guasto improvviso. L'erogazione idrica incontrata a Toppo è sospesa dalle 8 di stamane alle 18 di stasera. A Sanfele invece mancherà l'acqua dalle 21 di stasera alle 6.30 di domani mattina, salvo imprevisti. Lo rende noto acquedotto Lucano. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.